Lunedì 1 giugno 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Una Vita Genoveva sarà in pericolo dopo l'arrivo di Ariza, un uomo misterioso che già si è messo sulle sue tracce La Salmeron si confiderà con Ursula, dicendole di essere molto preoccupata per quello che potrebbe accadere Nel quartierino infatti, nessuno sa che nel passato ha lavorato come prostituta e che è riuscita a fuggire dal suo protettore Cristobal correndo un grosso Rischio. Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani, Bellita continuerà con il suo intento di far fidanzare Cinta, anche se la ragazza non è dello stesso avviso Ad appoggiare Bellita ci sarà come sempre suo marito Questa volta avranno trovato il pretendente giusto? Di seguito, le trame dettagliate Una Vita, spoiler lunedì 1 giugno 2020 nell'episodio della sop opera capolavoro di Aurora Guerra in onda lunedì 1 giugno 2020 su Canale 5, Genoveva uscirà dal carcere La Dark Lady era finita dietro le sbarre dopo la denuncia di Rosina e Susanna, scandalizzate dal ballo sexy della Salmeron sul balcone e dal Fatto che, ubriaca, ha fatto cadere una bottiglia, ferendo lievemente al braccio Rosina Genoveva si troverà presto nei guai.Nelle prossime puntate di Una Vita, scopriremo che Genoveva cela molti segreti nel suo passato da prostituta La donna sarà in ansia per il possibile ritorno del suo protettore Cristobal e confiderà le sue paure alla decenta Ariza, un suo sicario, inizierà a tenere d'occhio la Salmeron, seguendole in ogni suo movimento Carmen mette in guardia Genoveva Ariza, chiederà informazioni ai vicini riguardo Genoveva La Salmeron e Samuel non godono di una grande stima, dunque cominceranno a girare i primi pettegolezzi L'unica persona che si metterà una mano sul cuore sarà Carmen La domestica, insospettita dall'insistenza di Ariza, prefererà avvisare Genoveva Le anticipazioni di Una Vita svelano che la notizia farà tremare di paura l'ambigua moglie dell'Aldai.Infine, nella puntata di Una Vita in Onda su Canale 5 il 1 giugno 2020, vedremo Ariza scoprire dove abita Genoveva Nei prossimi episodi, il sicario metterà alle strette sia lei che Samuel Se non seguiranno le sue indicazioni, farà in modo che Cristobal arrivia da Cacias e riprenda con sé Genoveva I due capiranno di non avere alternative, anche se proveranno a convincere il senatore a collaborare con Ariza Il piano purtroppo fallirà e la coppia sarà costretta a prendere una decisione estrema Stando a l'isposta Stando a l'isposta Su возможность di fare i suoi seti case Stando a l'isposta Il piano purtroppo fallirà e la coppia sarà costretta a prendere una scuola Il piano purtroppo fallirà e la coppia sarà costretta a prendere una scuola Grazie a tutti.